La vita per le donne italiane che vogliono conciliare maternità e lavoro conosce ostacoli in molte regioni, ma le donne sarde devono fare più capriole di molte altre. A dirlo, i dati contenuti in Le Equilibriste e la Maternità in Italia nel 2022, report annuale di Save the Children su dati Istat, un'indagine che esce proprio a ridosso della festa della mamma, che si festeggerà domani, e che posiziona la Sardegna complessivamente al quindicesimo posto in Italia nel rapporto sulla maternità. In particolare, Save the Children ha stabilito di fornire delle misure quantitative dei diritti delle madri in Italia in base a determinati ambiti, a partire dal settore dei servizi, dove la Sardegna registra suo posizionamento migliore all'undicesimo posto, un posto in più in classifica rispetto allo scorso anno. Ma resta comunque nella seconda metà della classifica, e che molto ci sia ancora da fare si evince anche dal dato relativo alla spesa pro capite dei singoli comuni per la prima infanzia. La Sardegna è tredicesima, con 612 euro. La prima regione in classifica, la provincia autonoma di Trento, ne spende 2.481. Per ciò che riguarda la cura, sezione che prende come riferimento anche il tasso di fertilità, per il quale la Sardegna è ultima in Italia, con 0,99 figlia donna, e la distribuzione del lavoro di cura all'interno delle coppie di genitori occupati, l'isola si attesta al quindicesimo posto. Quindicesimo posto anche nell'area lavoro, ma con una crescita dei singoli valori di quasi tre punti, indice che qualcosa si muove. Sardegna e Sud Italia restano comunque lontani dalle regioni del nord, dove si registrano in generale una maggiore attenzione sulle condizioni socio-economiche delle donne e sforzi maggiori nell'investimento sul welfare sociale.